Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi degli ultimi anime che ho guardato. È un po' che non faccio un video a tema anime, di solito vi consiglio qualcosa o vi parlo delle prossime uscite. Vorrei oggi soffermarmi invece sugli ultimi anime che appunto ho visto, anche perché ho riguardato delle serie che mi erano piaciute tanto e una serie invece che avevo interrotto perché non mi stava piacendo per niente. E direi di partire proprio da questa, Tokyo Ghoul. La storia ruota attorno ai ghoul, delle persone che hanno un aspetto umano, sembrano delle normalissime persone, in realtà sono dei mostri, sono delle creature che per sopravvivere si cibano di esseri umani. Sono un po' dei predatori, diciamo che si mimetizzano nella società, vivono a stretto contatto con gli esseri umani e noi in particolare seguiamo le vicende di Kaneki, un ragazzo abbastanza introverso che si rifugia tantissimo nella lettura e che un giorno decide di dichiararsi o almeno avvicinarsi a una ragazza che incontra sempre in caffetteria. Purtroppo per lui questa ragazza si rivelerà essere un ghoul e cercherà di ucciderlo, di mangiarlo. Questo incontro segna un punto di fine e inizio per il nostro protagonista, perché non verrà ucciso, ma anzi si ritroverà a essere lui stesso un ghoul. Metà ghoul, metà umano in realtà. Non è totalmente un ghoul, è nato come essere umano, ma non è più umano, proprio perché per cibarsi e sopravvivere dovrà dare la caccia alle persone. Le premesse di questo anime sono secondo me molto interessanti proprio per la lotta interiore che vive il protagonista e questa forte dicotomia che c'è fra l'essere buoni e cattivi, perché in realtà scopriamo che non è tutto nero o bianco, ma ci sono infinite sfumature di grigio in mezzo. La storia quindi si può leggere per piani diversi e ciò che caratterizza questo anime è il forte impatto visivo delle scene molto violente. Per lo più la violenza è fisica, ma andando avanti si parla anche di violenza psicologica e è abbastanza splatter. Io l'avevo interrotto proprio per questo motivo qua, avevo visto soltanto la prima stagione dell'anime, ma non l'avevo continuato perché per me era un po' troppo forte. Ovviamente sono molto sensibile quando si parla di dolore, quindi vedere queste scene estremamente violente mi metteva molto a disagio, non mi sentivo bene e quindi l'avevo interrotto per questo motivo. Però da quando vivo insieme al mio ragazzo ho deciso di riguardare delle serie che avevo amato per farle scoprire anche a lui, ma di dare anche una seconda chance a serie che in passato avevo abbandonato. E così è stato per Tokyo Ghoul, ho riguardato la prima stagione e la seconda su Netflix e devo dire che ho un po' rivalutato la storia, nel senso continuo a pensare che sia troppo violenta per i miei gusti, però ho notato delle cose che prima ad esempio mi ero lasciata sfuggire perché ero concentrata soltanto sull'impatto che aveva su di me la storia e quindi non avevo notato il percorso di formazione che vive il protagonista e soprattutto quanto questo anime vada in profondità per quanto riguarda il protagonista. Ma anche, come vi dicevo, i diversi piani di lettura dell'anime che a mio parere è molto ben fatto, io non ho letto il manga ma lo sto recuperando e per quanto riguarda la versione animata ho apprezzato tantissimo i disegni, le musiche, il ritmo della storia, è qualcosa che ti trascina, che ti acchiappa subito. Capisco perché piaccia così tanto questa storia, proprio perché il protagonista può sembrare un po' debole ma in realtà lotta tantissimo interiormente e affronta un vero e proprio percorso che sfocia in un finale atomico a parer mio, veramente drammatico, fortissimo, molto violento. Io mi ero fermata inizialmente soltanto alla violenza ma stiamo parlando comunque di qualche anno fa mentre adesso magari sono maturata un po' per quanto riguarda l'animazione, ho cercato di informarmi di più. Nel frattempo ho guardato anche altre cose quindi adesso sono riuscita ad andare un po' oltre i miei pregiudizi diciamo al mio gusto personale e intravedere anche qualche cos'altro. La seconda stagione di questo anime però non mi è piaciuta per niente, manca totalmente quella dinamicità che c'era nella precedente serie, la storia fa acqua da tutte le parti, l'ho trovata molto confusionaria probabilmente perché rispetto alla prima non ci si focalizza esclusivamente o comunque in maniera principale sul protagonista, Kaneki, ma si cerca poco alla volta di affrontare anche gli altri personaggi. In questo modo si crea tanta confusione secondo me, non si entra veramente in profondità in nessun senso e anche il finale è veramente super confuso. però come in molti mi avete detto il manga si discosta tanto da questa seconda parte dell'anime che effettivamente è molto confusa e non c'entra quasi nulla con il manga o almeno il manga mi avete detto che è fatto molto meglio e continua ad approfondire il personaggio di Kaneki ed entrare molto nel profondo quindi sto cercando di recuperare il manga proprio per questo motivo. Un'altra serie che ho riguardato, che mi era piaciuta tantissimo e questo rewatch ha confermato i miei sentimenti nei suoi confronti è Erased, sempre ho guardato su Netflix. Penso che siano 12 episodi, prima non l'ho detto ma anche Tokyo Ghoul, mi sembra che siano 12 episodi la prima stagione così come la seconda. In ogni caso Erased, ve lo ricordate, è stato uno dei primissimi anime che vi ho citato qua sul canale perché mi aveva conquistata. Una storia un po' crime e thriller. Il protagonista ha 26 anni, vorrebbe diventare un mangaka ma in un momento un po' così della sua vita non sa effettivamente che cosa fare e ha una capacità particolare, ovvero in grado di rivivere alcuni momenti della propria vita. E in questi momenti riesce ad individuare, o almeno ci prova, quello che non va in modo da poter risolvere la situazione. L'anime si apre con lui che rivive un tragitto che percorre in motorino e si accorge di un autista che, non ricordo se si era addormentato o aveva avuto un infarto, comunque era alla guida di un camion, ovviamente non è in grado di controllare la vettura ed investe un bambino. Il protagonista tornando indietro si accorge di questo incidente e riesce a salvare la vita al ragazzino. Quando però muore sua madre, tornerà indietro non soltanto di qualche istante ma di tantissimi anni e rivivrà la sua infanzia. Infatti quando era bambino, mi sembra nel periodo delle elementari, erano scomparse delle bambine che sono state poi trovate uccise. Questa è un'altra di quelle serie che ti tiene incollata episodio dopo episodio, non c'è nulla da fare. Non voglio dilungarmi troppo perché ve l'avevo già consigliato, ve ne avevo già parlato profonditamente, magari vi lascio linkato nelle schede qua sotto in descrizione il video in cui ne parlo. Comunque confermo che sia una serie secondo me validissima. Anche perché non si parla esclusivamente di un caso di sparizioni, omicidio, ma si parla di violenza domestica, si indaga profondamente il rapporto di amicizia, ma anche il rapporto che si instaura fra i propri familiari. È veramente un anime ad alta tensione, per certi versi macabro ma anche tenero. E questi due elementi che vanno un po' in contrasto creano una storia secondo me molto avvincente. Un altro anime che ho guardato quest'estate ma che non avevo mai visto prima è Fullmetal Alchemist Brotherhood, sempre su Netflix. Perché non avevo mai guardato Fullmetal Alchemist prima d'ora? Non lo so nemmeno io. Comunque ho iniziato a guardare questo anime dalla serie Brotherhood, come mi avete consigliato molti di voi, perché si rifà più fedelmente al manga rispetto alla precedente serie. Molto probabilmente se vi piacciono gli anime avrete già visto Fullmetal Alchemist, per chi non lo conoscesse, la storia segue due giovani alchimisti, due fratelli, Edward e Alphonse. Questi due alchimisti sono in viaggio alla ricerca della pietra filosofale per poter riavere indietro i propri corpi. Infatti Edward ha un braccio e una gamba meccanici e il fratello non ha un vero e proprio corpo. Questo perché in passato hanno tentato una trasmutazione umana. La loro madre era morta, volevano riportarla indietro, ma ciò non è possibile, è uno dei grandissimi tabù dell'alchimia e ci hanno rimesso appunto parte del loro corpo, o nel caso di Alphonse, completamente tutto il corpo. Durante però questa ricerca scopriranno che ci sono tante cose che non funzionano nella loro nazione. C'è infatti qualcuno che sta cercando di distruggere il paese attraverso appunto queste pietre filosofali. In realtà ci sarebbe tanto tanto da dire, però sono 64 episodi, quindi vorrei evitarvi di fare spoiler. Queste diciamo che sono le premesse iniziali dell'anime. Ed ero super intrigata. Innanzitutto mi affascina tantissimo il concetto dell'alchimia. E questa serie affronta tanti temi differenti in maniera secondo me molto interessante. Devo dire che forse è una serie un po' troppo lunga per quanto mi riguardi, perché nonostante non sia ripetitiva, non è noiosa, però ho sentito un po' il peso di questi 64 episodi. È stata una serie veramente molto lunga per quanto mi riguarda, però l'ho apprezzata dall'inizio alla fine. Di solito quando ci sono così tanti episodi, quando la storia si dilunga così tanto, si tende poi a o voler finire in fretta e furia o ad arrivare a una conclusione un po' buttata lì o strana. In realtà sono stata molto più che soddisfatta dal finale di questa serie. Mi sono piaciute molto le tematiche affrontate, non si parla esclusivamente di bene o male, e anche in questo caso ci sono diversi punti di vista, i vari tabù dell'alchimia, il concetto del dare qualcosa per creare qualche cos'altro, il non poter creare appunto un oggetto dal nulla, ma si deve sempre pagare un prezzo. In generale si parla tanto del legame, ad esempio, fra i due fratelli, l'amicizia, il senso del dovere, di giustizia. L'ho trovata una storia veramente molto bella, avventurosa, c'è il giusto mix di ogni cosa, perché c'è dell'avventura, c'è azione, ci sono vari combattimenti, c'è strategia, complotti, colpi di scena, in certi punti è veramente molto drammatico. Io ancora ho in mente l'episodio più brutto, secondo me, più brutto nel senso che mi ha fatto veramente star male. Sicuramente saprete già di che cosa sto parlando. Se avete visto ovviamente la serie, sono rimasta inorridita dalle azioni di certe persone, da come si arrivi veramente ad utilizzare le persone come cavie, e fare degli esperimenti utilizzando tra l'altro anche dei propri cari. È una cosa che mi ha veramente sconvolta. Quindi so che molto probabilmente l'avrete visto tutti, ma nel caso non lo abbiate mai fatto, io ve lo consiglio. Ho visto poi un film d'animazione cinese, Flavors of Youth, sempre su Netflix. Credo che sia stato prodotto dagli stessi produttori di Your Name, e richiama molto Makoto Shinkai, quindi mi incuriosiva particolarmente questo anime per questo motivo qua. L'anime si divide in tre parti, tre storie differenti, tutte ambientate in cinema, che vedono per protagonisti appunto personaggi diversi. Quello che accomuna queste storie sono i ricordi legati soprattutto alla propria infanzia. Si parla di cibo, legami, vestiti, ci sono tematiche differenti a seconda dell'episodio, però appunto si ripercorre la giovinezza e i ricordi del passato dei protagonisti delle storie. Quindi è un anime molto evocativo, per certi versi diciamo romantico il modo in cui si guarda al passato. E l'ho trovato interessante per questi motivi qua, anche un po' malinconico in certi punti. Le immagini sono veramente molto molto belle, in particolare il primo episodio che si concentra sul cibo, mi ha fatto venire una fame, una gola, l'ho trovato veramente molto ben fatto, e mi è piaciuto molto il parallelismo fra cibo e giovinezza, ma non solo, proprio ricordo di infanzia, ricordo dei familiari che lo cucinavano, il sapore di un tempo, che ci sembra più buono non solo forse per gli ingredienti utilizzati, ma soprattutto perché magari a farlo erano dei nostri cari in momenti specifici della nostra vita che ci porteremo dentro per sempre. Sotto questo punto di vista quindi l'ho trovato molto emotivo e toccante, anche se io non sono riuscita ad emozionarmi con questa animazione. Nessuno dei tre episodi mi ha colpita particolarmente, non sono rimasta né delusa né estasiata dal complesso di questa storia. È brutto da dire ma non mi ha lasciato nulla, visivamente è molto bello da vedere, anche le musiche mi hanno ricordato tanto Makoto Shinkai, però secondo me manca quel qualcosa in più che ti fa veramente morire dentro, che ti fa struggere, che sei... che dici... Quindi se non avete altro da guardare penso possa essere interessante, soprattutto perché io non avevo mai visto un film d'animazione cinese, quindi è stato carino poter vedere qualcosa di nuovo, soprattutto perché queste storie sono ambientate in Cina, quindi si ha uno spaccato un po' della loro vita, soprattutto delle tradizioni, il cibo come vi dicevo, quindi può essere interessante per questo. Ho riguardato poi Il giardino delle parole di Makoto Shinkai, un mediometraggio, sono circa 45 minuti di film, l'avevo visto due anni fa, se non sbaglio, e non so per quale motivo avevo un ricordo un po' falsato, cioè mi sembrava che finisse in maniera positiva. Perché penso questa cosa quando so benissimo che Makoto Shinkai fa sempre finire tristemente le sue opere? Non lo so, fatto sta che quando l'ho riguardato, ovviamente non lo sto a dire qua, però se avete mai visto qualcosa di Makoto Shinkai, saprete che lui è il mago dei finali strappalacrime, sono rimasta sconvolta perché mi ricordavo una cosa e invece no. Comunque, perché non conoscesse Il giardino delle parole, vi consiglio di recuperarlo perché è veramente molto carino, poi si tratta di tre quarti d'ora di film visivamente e le musiche valgono tutto, ma comunque i protagonisti di questa storia sono un ragazzo liceale che sogna di diventare calzolaio e nei giorni di pioggia marina la scuola per recarsi in un giardino, in un parco. E qua incontra una donna, la cui identità è un po' nebulosa, ma fatto sta che la incontra lì tutti i giorni in cui piove. Fra i due si instaura una sorta di legame, possiamo dire così, che poi sfocerà verso la fine in qualcosa. Ovviamente non voglio dirvi di più perché si tratta di un film abbastanza breve, ma quello che mi ha emozionata tanto di questo film è innanzitutto l'animazione, i colori e l'acqua. L'acqua sembra veramente acqua vera. Ci sono dei disegni, è soltanto dell'animazione, ma l'acqua è super reale. E la cosa bella è che essendo ambientato principalmente, anzi quasi esclusivamente nei giorni di pioggia, ci sono tantissimi giochi di luce, i colori, il verde del parco. Per me è emozionante, è veramente molto bello. È secondo me una storia molto toccante, soprattutto se avete un sogno nel cassetto. penso che vi rivedrete tantissimo nel protagonista che contro ogni tendenza e moda vuole appunto fare il calzolaio, ma fa proprio le scarpe a mano e penso che sia un mestiere favoroso. E in generale ci sono delle riflessioni secondo me interessanti sulla vita e appunto sul lavoro. Come vi dicevo il finale mi ha lasciato un po' triste e malinconica, però è quello che succede praticamente guardando tutti i film di Makoto Shinkai, tranne Your Name. Questi erano quindi gli anime che ho guardato quest'estate. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete visti anche voi, che cosa ne pensate, ma soprattutto se capita anche a voi di riguardare ogni tot delle serie che vi erano piaciute tanto o magari dare una seconda possibilità a un anime che non vi aveva impressionato particolarmente. Se vi è piaciuta la maglietta che indosso in questo video la trovate su Pampling, trovate il link qua sotto in descrizione e con il codice CP15 avrete 15% di sconto. Su qualsiasi tipo di acquisto non c'è un minimo di spesa. Oltre a questa maglietta comunque ne trovate tantissime altre, sapete che io amo l'animazione giapponese, quindi questa non me la potevo far scappare anche perché ricorda il logo dell'Adidas, ma ce ne sono tantissime altre a tema serie tv, libri, videogames e quant'altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che nelle schede in descrizione trovate la playlist con tutti i video dedicati agli anime. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!